Questa mattina ci troviamo alla sede dell'IRT protezione civile qui a Molini Marzoli a Torre del Greco con Suor Giorgina per raccontare la storia di Patrizia ma soprattutto per fare un appello. Voglio fare un appello all'istituzione perché questa ragazza che è stata un po' abbandonata all'ospedale quasi da una settimana in condizioni veramente di disagio, una creatura fragile e ho visto la ragazza lì che era dimessa dall'ospedale e non sapeva dove andare. Abbiamo chiesto aiuto a tante istituzioni, carabinieri ma non siamo riusciti ad avere. La ragazza per quasi una settimana girava intorno all'ospedale in condizioni veramente pietose. Stamattina perché siete qui? Sono qui perché finalmente ieri sera siamo riusciti a parlare ancora con i carabinieri poi con una persona che si dedica anche ad aiutare queste persone, il bisognoso Carmela. Allora signora Carmela andò all'ospedale, lì c'era la polizia e quindi hanno cercato di trovare questa ragazza che girava intorno all'ospedale e portare alla protezione civile che subito hanno accolto la richiesta e sono intervenuti subito in verità e ringrazio veramente che mi sento anche più tranquilla perché stiamo riuscendo a risolvere questa situazione che da quasi una settimana veramente quindi mi dispiasceva molto vedere questa ragazza in queste condizioni di abbandono. Quindi ha bisogno di un alloggio? La ragazza ha bisogno di un alloggio in un posto sereno veramente. Lei ha bisogno di un'assistenza e di un posto sicuro per restare, per essere acudita perché comunque non è in grado di gestire se stessa da sola. Giovanni Accardo, anche voi siete stati interessati per questa storia di Patrizia e vi siete immediatamente rivolti ai servizi sociali di Torre del Greco? Sì, purtroppo sì perché è un caso umano e fa rabbia vedere un essere umano lasciato in quelle condizioni. È arrivata da noi in condizioni disastrose. Abbiamo provveduto a rifocillarla per primo, poi l'abbiamo fatta lavare, l'abbiamo cambiata d'abito. Abbiamo avvisato il comando vigile urbani in cui prontamente ha inviato subito una squadra dell'ufficio assistenza che hanno preso in carico la signora e hanno contattato gli uffici di riferimento di Bosco Reale. Quindi adesso che succederà? Succederà che Bosco Reale sia in un'attesa che la venga a ritirare e che la prenda in carico. Ricordiamo che la ragazza era arrivata al pronto soccorso del Maresca ed era stata poi nell'immediato subito dimessa. Dimessa senza affidamento a familiari o a una struttura pubblica e questo secondo me è una cosa grave. Considerato purtroppo che il soggetto sembrerebbe essere affetto da problemi psichiatrici? Problemi seri, in realtà l'età poi tradisce i comportamenti e una bambina ha tutti gli effetti. Quindi il suo appello qual è? Il nostro appello speriamo che questo non succeda più perché purtroppo è successo già diverse volte che siamo stati costretti a intervenire e a recuperare soggetti del genere in posti impervi o posti pericolosi. Grazie a tutti.